Continuano i maxisbarchi a Lampedusa, nei giorni scorsi ne sono arrivati 686 su un peschereccio di 15 metri e prodato ieri al modo commerciale. L'operazione di sbarco hanno visto un primo triace sanitario e si sono concluse prima del luna di notte. Cinque sono stati portati al poleambulatorio dell'isola perché stavano male, sono originari dell'Egitto, Chad, Marocco, Siria, Bangladesh, Sudan, Nigeria, Etiopia e Senegal. Il peschereccio intercettato dalle motovedette a 8 miglia dalla costa e partito da Zuwara in Libia. Sono stati tutti portati all'hot spot dove al momento sono presenti più di mille persone a fronte dei 200 posti disponibili e sul maxisbarco a Lampedusa interviene Calogero Pisano, una vergogna senza fine, il ministro Lamorgese si dimetta. Per Pisano il maxisbarco di 686 migranti arrivati a Lampedusa con un vecchio peschereccio è purtroppo una sola punta dell'iceberg di ciò che sta ormai avvenendo da mesi nella nostra provincia dove la situazione è assolutamente insostenibile con hot spot e stracolmi all'inverosimile, fughi dai centri di accoglienza di extracomunitari sottoposti a sorveglianza sanitaria anti-covid e atti delinquenziali riportati spesso dai cronisti locali, perpetrata da gente che arriva clandestinamente nel nostro territorio. La politica dei porti spalancati, continua Pisano, del governo Draghi è stato un vero fallimento e ha finito soltanto con l'alimentare, il businis degli accoglienza e il malaffare. Per Pisano è possibile sottoscrivere online all'indirizzo internet sfiducialamorgese.it la petizione lanciata dal partito della Meloni per chiedere ai parlamentari di firmare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'interno Lamorgese, palesemente inadatta a ricoprire una carica così importante e delicata.